Musica Una bella coincidenza, l'elezione al Parlamento, anche il compleanno? Sì, infatti un bel compleanno, certamente diverso da tutti gli altri compleanni. Come si sente ad essere eletti in Parlamento, considerato che Patti non aveva un deputato, forse dalla prima guerra mondiale? Sì, mi sento con molta responsabilità in più rispetto ad altri, perché dopo tanti anni sono una delle prime, penso all'ultimo risale al 911, non mi ricordo quando. Che tipo di istanze intende portare in Parlamento? Allora, una cosa su cui ho ribatto sempre, innanzitutto il potenziamento degli ospedali, perché ho avuto io personalmente delle esperienze negative e quindi penso che gli ospedali vadano potenziati. E poi un'altra cosa riguarda i trasporti. Il mio obiettivo è riprendere i progetti sull'aeroporto, che anni fa erano stati fatti, però poi non se ne è saputo più niente. Quindi questo senz'altro, anche perché per il turismo è importante come facciamo a far arrivare gente qua. Sicuramente un aeroporto io credo che sia una cosa molto importante. E poi c'è il precariato? E il precariato sì, quello è una cosa che mi interessa molto, anche perché io sono una precaria, quindi so sulla mia pelle che cosa significa essere precari, che cosa si soffre soprattutto dopo 23 anni, che non abbiamo certezze. Ecco, quindi questa è una cosa che mi interessa molto. Precariato in Sicilia, ecco. Come si è dato che sono tanti precari in Sicilia, ecco che tipo di soluzioni si può prospettare, quantomeno che tipo di stanza si può portare per dire ai precari eventualmente di trovare delle soluzioni? Io non sono d'accordo con Crocetta che dice che ci vuole far andare con i privati. E quindi non sono d'accordo neppure sui concorsi, perché dopo 23 anni ognuno di noi ha acquisito una professionalità e quindi sui concorsi non sono d'accordo, né tantomeno con i privati, che penso che non sia una buona soluzione. Io spererei di parlare con Crocetta e vedere insieme che cosa si può fare magari di racimolare dei soldi per essere assunti definitivamente, insomma, per avere una certezza. Con una stabilizzazione allora in un ente pubblico o non in un ente privato? Non in un ente privato, senza dubbio non in un ente privato, in un ente pubblico sì. In un'occasione importante come questa avrò ricevuto sicuramente tante attestate di stima, auguri, insomma, da parte di tanta gente. Sì, tantissime, veramente contentissime, perché sono stati tutti molto affettuosi con me, specialmente i cittadini che mi hanno fermata per strada, mi hanno fatto gli auguri e per questo sono stata veramente felice e ne approfitto per ringraziarli. Avrà avuto anche degli auguri pure trasversali, insomma, da tutti i partiti, persone, insomma, di Montagna Reale e di Patti, insomma, che le hanno attributato queste felicitazioni? Sì, senz'altro, anche molti sindaci, molti consiglieri provinciali, veramente sono stati tutti molto affettuosi e gentili nei miei riguardi. Senta, questa è la carica, come diceva lei prima, in una precedente intervista di ultime ore di responsabilità, perché rappresenta questa, diciamo, questa fetta della provincia di Messina? Sì, mi carica molto di responsabilità, perché non voglio deludere le aspettative di chi mi ha votata, quindi mi sento proprio carica di questa responsabilità. Spero si farebbe bene, spero di non deludere. Grazie a tutti.